Carissimi amici, è arrivato Pani YouTube e oggi siamo nella serie di Ice Cream perché finalmente il grande giorno sta arrivando E per il sì domani uscirà il grande aggiornamento di Ice Cream 6 con tante novità, con un nuovo filmato segreto Quindi oggi siamo qua a festeggiare il grande giorno e faremo tipo una sorta di ricapitolamento di quello che troveremo nel prossimo aggiornamento Ma come sempre c'è di questo tantissimi like, se like che la scelta sarà pari personaggi e il senso dopo sarà Rodi il gelataio Se invece like sarà dispari personaggi e il senso dopo sarà Joseph Sullivan Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale e attivate la camperellina Ma adesso partiamo subito, cominciamo! Sì sì oggi mi vedete proprio più euforico del solito perché sono veramente felice Finalmente il nuovo aggiornamento sta arrivando, sta arrivando il nuovo aggiornamento Non vedo l'ora di provarlo insieme a voi, andiamo subito in partita Mettiamo facile, andiamo qua, tocchiamo gioca e si comincia, si comincia Ice Cream 6, il sesto capitolo del gelataio Un capitolo che abbiamo visto ormai un sacco di volte Ce lo siamo praticamente giocati tante tante volte Ed è praticamente il capitolo dove noi finalmente facciamo ricongiungere Charlie Con tutti quanti gli altri amichetti Ma molto presto, domani, uscirà un grande aggiornamento Con un segreto che riguarda Joseph Sullivan Giuseppino Sallivano Il padre adottivo di Rod In questo, diciamo, nuovo aggiornamento scopriremo il perché ha perso la vita Ma soprattutto, una persona segreta si è intrufolata all'interno della sua fabbrica Chi sarà mai quella persona segreta? Potrebbe essere Sister Filippa Oppure un'altra persona ancora che fra poco andremo a vedere Quindi schippiamo quella intro Andiamo subito in partita E cerchiamo subito di entrare all'interno dell'ufficio di Joder Sullivan Vai, su, su, comincia, comincia Parti, parti, parti Che non vedo l'ora di andare qua in partita Su Ok, siamo qua Il gioco ha caricato Siamo qui dentro All'interno della cucina di Rod Sullivan Allora, vediamo se troviamo subito la parte del coso Vabbè, il medaglione Vai qua dentro Vai di qua Chiudi la porta Vediamo se troviamo qui dentro il medaglione Vuoto, qui dentro vuoto Prima di andare dentro uno di questi uffici Vuoto E te pareva, te pareva Tutto quanto vuoto Per una volta che entro per prima qua dentro Ok No, 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 no Via, via, via Il mini Rod Il mini Rod No, 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 no Lasciami stare Lasciami stare Ma non è possibile Ma sempre me li trovo sti mini Rod Ma sempre Ci fosse una volta che io riesco a girare senza mini Rod nei paraggi Ci fosse una volta Non è possibile Ma che roba, ma che roba Qui dentro c'è qualcosa È giustamente vuoto Qua dentro Vuoto Sì, sì Mettiamo tutto vuoto Tutto vuoto Va bene Dai, allora Vediamo qua dentro Rod Eccolo qua Rod, guardate Ma c'era praticamente Metti che bloccava Rod Vabbè, dai Piazziamo sta trappola Vai Fuori uso Fuori uso Apri quella porticina Vediamo se qui dentro riusciamo a trovare niente Vabbè, mettiamolo fuori uso Va Che se no sto cosa ci viene ad inseguire Sto mini Rodino Ok Trovate la parte del medaglione Via, via, via Andiamo, andiamo Di corsa, di corsa, di corsa Ok Devo subito mettere questa parte qua dentro Va Apri la porticina Bravo personaggio Bravo niente Bravo niente Che sto mini Rod Veramente Io veramente prenderei questi mini Rod Li lancierei direttamente dalla finestra Li prenderei uno ad uno E li lancio dalla finestra Perché non è possibile Non è possibile che ogni volta me li trovo in giro Qualunque cosa io faccia me li trovo davanti Allora Metti qua sopra Adesso Dove sta l'altra parte del medaglione tra l'altro Dove si trova? Allora Vediamo qua Forse in bagno Proviamo a vedere Ok Si trova dentro il bagno Si Metti qua dentro Ok Apriamo l'ufficio di Joseph Sullivan L'ufficio di Giuseppino Sullivan Qui dentro Una cosa molto molto importante Possiamo notare infatti Che una pagina di giornale È stata strappata L'hanno presa Strappata In più parti Infatti su Ice Cream 6 Nuovo aggiornamento Dovremmo trovare tutte quante le parti del giornale Per ricreare la pagina completa E sbloccare un nuovo filmato segreto Chissà se questo filmato sarà praticamente Qualcosa che si collegherà con il finale segreto Oppure Sarà un filmato che compare Come è successo su Ice Cream 5 Quando praticamente abbiamo preso tutti quanti i 10 Marshmallow Infatti perché non lo sapesse Quando ne prendiamo i 10 Marshmallow Compara un filmato segreto Dove vediamo Sister Madeline Che praticamente partorisce Rod Vediamo proprio la nascita di Rod il gelataio Ma non solo In quel filmato segreto nella prima parte Vediamo praticamente Elisa che perde la vita Elisa sarebbe la figlia di Sister Madeline Poi Quando nasce Rod Lo spirito di Elisa Entra dentro di lui Infatti Rod ed Elisa Sono la stessa persona L'unica cosa ecco che Rod in questo momento ha perso la memoria Non ricorda la sua vita passata Non ricorda di essere la reincarnazione di Elisa Quindi chissà se un giorno lo capirà Oppure no Non ne ho idea Spero che prima o poi lo possa capire Ok Se vi chiedo scusa se mi vedete più euforico del solito Però sono veramente felice Che finalmente uscirà il nuovo aggiornamento di Ice Cream 6 Ma non solo Perché fra pochi giorni Uscirà anche la nuova stagione di Horror Brawl Il gioco multiplayer Con i personaggi dei giochi Keyplayerians Non vedo l'ora di provare tutto quanto insieme a voi Sono veramente molto 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 euforico Allora come prima cosa Non ci credo Non ci credo E basta Mini Rod Basta Mini Rod Metti togliti di là Togliti di là che devo passare di qua Veloce 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 Lasciami passare Lasciami passare Di corsa di corsa di corsa Apri qua la porta Apri di qua Cerchiamo subito di trovare tutte quante le varie parti Per poter aprire alla fine Il Il coso Com'è che si chiama già La moto di Joseph Sullivan Cerchiamo subito la manovella Ci portiamo con sé La fucile Sì la fucile La fucile L'electrogan Vabbè il fucile elettrico Così se Rod ci compare qui davanti O qualche Mini Rod Possiamo shottarlo Alla grande E te pareva infatti Ho detto Mini Rod Ho sentito subito Intruder Tutto quanto l'allarme Adesso andiamo di qua va Vediamo qui la fotografia che esce fuori da sto coso Su su fai scendere Fai scendere Ok dobbiamo andare dove c'è il Guinness dei primati di Joseph Sullivan Infatti Joseph Sullivan Giuseppino Sallivano Ha vinto il Guinness World Record Perché ha creato il gelato più grande del mondo E veramente complimenti a Giuseppino Giuseppino Complimenti per aver fatto il gelato più grande del mondo E adesso andiamo di qua Veloce 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 Scendi qua lungo le scalette Bravo personaggio Bravo personaggio E non bravo Mini Rod Il Mini Rod non è per nulla bravo Non è per nulla bravo il Mini Rod Perché non si fa gli affari suoi Non si fa gli affaracci suoi Eh Si Mini Rod veramente Io li prenderei Li lancierei uno a uno Non soltanto dalla finestra Mi ricordo che infatti una volta avevo fatto il video Il lancio del Mini Rod Dovrei replicarlo effettivamente Dovrei replicarlo Ok dobbiamo andare dove c'è il certificato E state zitto Mini Rod Vai E basta Non si stava zitto neanche due secondi Neanche due secondi Allora apri qua Vediamo qua dietro il certificato Dobbiamo andare dove ci sono Praticamente Non so come chiamarla quella zona Una zona metà uffici Metà niente Non lo so come si chiama Nell'area riservata Ok il poster dell'area riservata Ok vediamo qua che cosa c'è Perfetto Manovella Manovella Su raccogli questa manovella E muoviti però eh E muoviti Andiamo 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 Mettiamolo subito qua dentro Di corsa di corsa di corsa Perché adesso vediamo un filmato Dopodiché possiamo collegarlo Con il filmato che potrebbe comparire Nel prossimo aggiornamento Ok gira qui la manovella Ricordatevi Sister Madeline La soreta di Volnan E la madre naturale di Rod Rod il gelataio E tra l'altro Rod E la reincarnazione di Elisa Che sarebbe la prima figlia Che ha avuto Sister Madeline Che poi ha perso la vita Vabbè avete capito No ormai la conoscete bene Nella storia di Rod il gelataio E di Elisa Quindi vediamo prima qua Ricordi Vai qua Vai qua Guarda questi ricordi Guarda questi ricordi Siete sepolti Sotto i miei piedi Qui siamo nel cimitero Dell'Igor School La guerra L'avete cominciata voi Non mi pento Dei fatti di ieri Ma di quali fatti Cosa è successo ieri Suoletta Cosa avete fatto E ora Chi bussa fuori Lo sento e fin qua Il campanello addirittura Addirittura Vabbè la suoletta va qui A vedere chi è che ha bussato No Apre qua il cancello Ed eccola lì Buongiorno Sono sorella Filippa Madre e padessa Dell'ordine di questa scuola E' passato un po' di tempo Dall'ultima volta Che ho ricevuto Letizia a questo posto E come è comprensibile Non ho avuto altra scelta Se non Puntini puntini punti E mi sa che hai fatto Una pessima scelta Sister Filippa Perché da questo momento Ascolta queste parole Perché qui rimarrai Da questo momento in poi Il mio schiavo Sarai Sister Filippa E' diventata La schiava Di Sister Madeline La madre naturale Di Ice Cream Sappiamo una cosa Sister Madeline Non può lasciare L'Igol School Non può uscire fuori Dalla scuola Perché non so Se voi vi ricordate Il patto che ha fatto Con Nasrat E se non lo siete farsi Andatevi a rivedere I video di Volnan 2 Dove c'è Sister Madeline Che ha fatto il patto Con Nasrat Lei non può lasciare La scuola Altrimenti Rod perderà la vita Quindi può darsi Che Sister Madeline Ha preso Diciamo Il controllo Di Sister Filippa E l'ha utilizzata Proprio come schiava Per cercare Un modo Per poterla Riportare Da lei stessa Ma adesso andiamo Direttamente nel trailer Del prossimo aggiornamento Di Ice Cream 6 E dopodichè Cerchiamo anche Di vedere Le novità Che verranno aggiunte Ok Nuovo trailer Di Ice Cream 6 Aggiornamento Tu Come ti sei permesso Di entrare Nella mia fabbrica Questa voce Di Joseph Sullivan Che sta parlando Giuseppino che parla Guarda come Hai lasciato tutto quanto Rod Rod Ama ancora me Tu non scoprirai I miei segreti Lascia che i morti Restino in pace E infatti Come vi dicevo prima Joseph Sullivan Ha preso Una formula segreta Che in realtà L'ha rubata Da Sister Madeline Ma non solo Lascia che i morti Restino in pace Di quale morte Si sta riferendo Il nostro caro Giuseppino A chi sta facendo Riferimento Ad Elisa Oppure qualche altro Personaggio ancora Che noi non conosciamo Sapete soltanto una cosa Con il prossimo aggiornamento Di Ice Cream Se ci saranno Nuovi personaggi In arrivo Nella saga Di Ice Cream Quindi molto probabilmente Questi nuovi personaggi Potrebbero ricomparire Nuovi giochi E dare vita Ad una nuova storia Tenetevi pronti Perché i Keplerians Hanno detto appunto Che ci saranno Nuovi giochi Con nuovi personaggi Che potrebbero essere Anche giochi Non horror Insomma Comunque Nuovi giochi In arrivo Che non vedo l'ora Di provare insieme a voi Effettivamente Ormai da un po' di tempo Che Yvon Nun Mister Meat E Ice Cream Stanno tutti e tre In contemporanea insieme E' il momento Anche di aggiungere Un quarto E un quinto personaggio Che potrebbe essere Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Che sono veramente curioso E quindi Prepariamoci Perché domani Finalmente uscirà Il nuovo aggiornamento Di Ice Cream 6 E non vedo l'ora Di provarlo con voi Quindi che dire Per il momento Il video finisce qua Fatemi sapere Cosa ne pensate Spero che questo video Ti vi sia venuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Condividete Iscrivete al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Per giornata Per giornata Per notte Ciao a tutti E buon panino a tutti